Cari amici concludiamo questa bellissima carrellata che abbiamo fatto, abbiamo visto insieme tantissime belle opere di grandi maestri italiani del Novecento e concludiamo con un'altra grande artista, stiamo parlando di una delle figure più significative della pittura del Novecento italiano e cioè di Eduard Damaino in arte da Damaino, 1935-2003, un artista che si è avvicinata alle esperienze analitico riduttive e stiamo parlando quindi di nomi come Piero Manzoni, Enrico Castellani, Agostino Bonalumi e cosa fa lei? Lei sperimenta la forma artistica che rimane come dire incentrata sulle valenze espressive dell'oggetto in sé, cioè un oggetto che viene scandito in traforma, dimensione, spazio, movimento. Questo perché? Perché l'esperienza degli analitico riduttivi fa sì che l'oggetto non venga inteso come un mezzo espressivo ma come un puro fenomeno del momento. Beh, questa grande artista anche qui in questa opera su Accetato, vogliamo ricordarlo come tante altre sue opere su Accetato e quest'opera si intitola Il Movimento delle Cose del 1992 con una misura di 112 per 83 centimetri. Dicevamo, questa grande artista studiando il fenomeno del singolo oggetto sul momento, costituisce con questa serie ripetuta e ossessiva di segni, come era una delle sue caratteristiche, costituisce una serie di movimenti nello spazio, quindi questi segni che ossessivamente vengono messi avvicinati o allontanati, orizzontali o verticali o in diagonale, crea un bellissimo movimento dove cominciamo a vedere una composizione di volumi che vengono e balsano verso l'occhio. Quindi abbiamo, come dire, delle pianure, delle conche, delle punte, abbiamo un oggetto che da bidimensionale diventa quasi tridimensionale, cioè volumetrico e lei con questa ossessione di segni neri su Accetato costruisce in questo spazio il fenomeno dell'oggetto in movimento, cioè questo oggetto ripetuto, torno a dirlo, in modo ossessivo, continuativo, per costruire una grande emozione che viene fuori attraverso questi volumi diversi. Vogliamo ancora dire che questi segni sono spezzati uno dall'altro, quindi noi vediamo che si avvicinano e si allontanano, sempre mai toccandosi, ma creando degli agglomerati, quindi più o meno intensi, che danno appunto il volume a questa bellissima opera. Vi ricordo che questa bella opera di Dada Maino, Il Movimento delle Opere, ha una riserva di 15.000 euro, ma la sua stima è tra i 22.000 e i 30.000 euro. Cosa vuol dire questo? Che soltanto per voi che vedete la tv c'è la possibilità di fermare, di bloccare quest'opera prima che vada in asta, e vi ricordo che l'asta della Casa Sant'Agostino sarà a marzo, ma voi potete fermare questa opera al prezzo di 15.000 euro, che è un prezzo quindi quasi la metà di quello che la stima e che sicuramente quest'opera raggiungerà sia per la bellezza dell'opera, sia per il nome dell'artista, che raggiungerà in marzo durante l'asta di Sant'Agostino. E con quest'ultima opera io voglio concludere ringraziandovi per averci seguito su questa prima trasmissione via tv web. Vi ricordo che questa trasmissione diventerà cadenzata settimanalmente e quindi vi invito a seguirla perché noi faremo ogni volta un piccolo panorama di opere significative di artisti importantissimi del secondo novecento italiano. E vi ricordo che la Casa d'Aste Sant'Agostino risponde sempre dell'assoluta autenticità delle opere che propone, quindi l'assoluto rispetto dell'opera e l'assoluto rispetto dell'acquirente. Io vi ringrazio ancora una volta allora e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata a tutti. Ciao. 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 Ciao.